Salve, io sono YenTime e oggi siamo nel finale di Conarium, nel finale di questa storia breve ma intensa, come avete già visto, è cambiato il menu, cambiano le cose, è cambiato anche questo quadro qua, che sarebbe quello del caricamento, vediamo come andrà a finire questa storia, che vedo che vi è piaciuta molto. Siamo tornati su Layers of Fear, c'è da fare qualcosa che non ho fatto prima, non direi, ok questo l'avevo già visto, ne mancano due adesso, ne mancano due, si sta caricando la stanza e quindi non ci posso entrare, ahhh salvataggi, 853, chiamiamo 853 e speriamo non sia Team pronto? ma che cà perchè? ma che cà ooooooooh pronto? non facciamoci domande perchè il telefono ruola 354 quanti numeri di telefono ci devo chiamare oggi? non è questo, forse non doveva finire in questo modo tutto per rispondere al consulter, no? e mo' e il telefono? no dai, di sotto non mi butto stavolta oddio mio, sto telefono è squilla ah ok, la stanza è diversa, quindi abbiamo fatto te lo meriti tutto il gelato mi merito tutto io e infatti il telefono si è squaiato ma non ti fai schifo hai tagliato il dito indice ma forse qui c'è qualche problemino di fondo oh, qualcosa di forse non è così tanto bello però forse è caso di levarsi di ulo no eh è l'homo topus questo e vabbè però no no, però è fatto benissimo sto gioco eh cioè a livello di colonne sonore impatto e il resto è pieno di roba figa dicisi vendetta dei topi e riparti a piangio l'ha trovato un morso al collo l'ultimo l'ultimo che sto stimo sci no grazie no 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 bravo eh ma non si fa così però è inutile che piangi il micolo non te lo do più ti sei divertita tanto ora si chiude la finestra guarda no? un falazoccolo stavolta ok troppo tardi ti prego no il collo no ti prego no il collo no no il collo no ok wiii non era infinito scappa schifo no apri ma cosa sta diventando buonanotte buonanotte secchio conosco sto posto no il collo no il mio collo non te lo prendi eh l'hai fatto una volta la tavola wisha no nooo eeeh ve li che devo scrivere niente 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 allora io i miei problemi magari in questa storia ci potrebbero mancare ma mia moglie veramente vieni ti porta a spasso su perché ti sei spenta ma dai ma dai ma l'ho portato a fare nooo già lo vedo perché c'è un errore ok perché è cambiato quindi questo ci sta però bello c'è un'atmosfera minchia sfondo del desktop ah è ricambiato un'altra volta ma che c***o sei tutta lagata la casa chiunque sono al pianoforte ha la delicatezza di un cavallo cioè neanche finì la frase non mi ha cominciato stavo per ah partita dama ma che devo no non dirmi che devo trovare ripetine te garbano i gattini ma che bello il tuo gattino poi gli orsi sono belli tranquillo non è che inizio a comprendere tante cose forse i gatti non è che ti piacciono più di tanto a meno che non sia una pantegana no c'è una finita partita di dama come cavolo è possibile ma non si possono fare queste mosse ma questa famosa a caso no vince pure non posso andare e quindi no tipo le pagine dello slenderman qua ultimo pezzo eh qua siamo al finale faccia divisa in due no oh che bello però yes that's it oh oh it's beautiful perfect just like like i always imagine what what is this i don't understand no stop it please so close mia moglie è tirato fuori la vera essenza a quanto pare ah non posso neanche giocare io fa tutto lui allora vuoi vedere che ora lui diventa velo del dipinto no se esci dalla porta c'è quel coso davanti urlo come un cinghiale non arcoso vivo davanti però c'è una marea tutti uguali che c***o di chi è questo ma no che brutti disegno oh si ritorna all'inizio salvini non ci credo cioè ecco pure di maio vabbè ce l'hanno tutti qui dentro eh tiziano ferro ecco in sto posto non è che ci vuole tornare tantissimo e questo disegno niente vabbè tornato tornato tutta la normalità ma qua se ci clicassi purtroppo l'ho capita e forse ho capito che problemi ce l'ho io uno perché ha giocato sto gioco e due perché il protagonista che dovrebbe essere io cioè non io 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 nel senso quello che gioco ha problemi seri del tipo che prende fa un disegno su una persona non gli piace cioè ci mette proprio la stessa persona dentro l'ammazza ce la fila dentro e che pazzo è praticamente cosa come si chiama shining versione pittoresca ci infila sulla persona dentro il dipinto poi se non gli viene bene quella persona è morta per niente e quindi si innamorerà poi di un'altra persona gli vorrà fare un altro dipinto farà la stessa identità osa cioè lui se questo video ti è piaciuto lasciate un commento mi piace iscriviti al canale attiva la campanellina per supportare la community e anche per non perderti i prossimi video spero di averti oddio spero di averti reso della giornata felice anche oggi da game time purtroppo bye averti reso